Un nuovo sodalizio mafioso tra la Sicilia e New York, smantellato quasi sul nascere dalla procura di Palermo e dal blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Trapani, che all'alba di questa mattina ha portato all'arresto di 13 persone, tutte di Castellammare del Golfo. Tra queste anche Francesco Domingo, 64 anni, dentro Cosa Nostra, chiamato Tempesta, mafioso di lungo corso e punto di riferimento per il super latitante Matteo Messina Denaro. Dagli Stati Uniti alla Sicilia, da New York a Castellammare, Negli ultimi due anni i viaggi degli emissari della famiglia new yorkese dei Bonanno, originaria proprio della cittadina trapanese, si erano intensificati. A riceverli sempre Domingo, già condannato due volte per associazione mafiosa, era lui che tirava le fila, che faceva da garante al nuovo patto mafioso con i cugini d'oltreoceano. Tra gli indagati c'è anche Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, eletto nel 2018. A lui è stato notificato un avviso di garanzia, in cui si ipotizza il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Altra operazione in odore di mafia, quella della DIA di Palermo, che ha sequestrato beni per un valore di oltre 30 milioni di euro a Giovanni Pilo, imprenditore edile palermitano, ritenuto vicino a Cosa Nostra. In passato, a seguito delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, compreso Tommaso Buscetta, era stato rinviato a giudizio nell'ambito del maxiprocesso per partecipazione mafiosa e condannato a sette anni di reclusione.